Buongiorno, mi chiamo Eugenio Pollarini e sono il responsabile dello stabilimento di OMR di Modena. Siamo specializzati nella produzione di telai di alluminio per impiego automotivo, in particolare sulle vetture Gran Turismo di alta gamma di mercato. Lo stabilimento di Modena fa parte di una multinazionale di proprietà italiana, il gruppo OMR, la cui sede storica è Arezzato, in provincia di Brescia. Oltre allo stabilimento di Modena, il gruppo conta 15 stabilimenti in Italia e all'estero. Sono tutti prodotti caratterizzati da un elevato contenuto tecnico e tecnologico nel settore delle divisioni automotive, quali il powertrain e il body strutturale per scocche di vettura su strada. Le officine meccaniche rezzatesi nascono nel 1919 a Arezzato, in provincia di Brescia. Dal dopoguerra in poi, OMR, con il boom economico delle motorizzazioni di massa, è in continua crescita con il settore delle lavorazioni alle macchine utensili. Per i propri clienti, da Iveco a Fiat, oggi Stellantis, Ferrari, Maserati e dall'estero con Renault, Audi, General Motors, BMW, Lamborghini, ma anche nei settori delle macchine agricole e movimento terra, come CNH e Dana. Nel tempo, questa expertise si estende ad altri marchi automotivi, su vetture Alfa, Maserati, Jeep, General Motors, ma anche Lamborghini, Bugatti, dall'Ara, Zox. Unica è anche l'affidabilità dei processi produttivi industrializzati, per poter garantire l'elevato contenuto tecnico e qualitativo richiesto secondo le normative specifiche di eccellenza dei nostri clienti. Essere team partner e technical partner della scuderia Ferrari è uno stimolo alla competitività insita nella Formula 1, dove l'assenza dei limiti tecnologici ci porta alla ricerca del miglioramento continuo, basato sull'attenzione ad ogni dettaglio. Le macchine a controllo numerico CMS sono dedicate alla lavorazione dei telai completi per auto di alta gamma, prodotti finiti di assemblaggio che dopo le innumerevoli operazioni di costruzione dei componenti e del relativo montaggio contengono un valore di rilievo. Quando abbiamo deciso di utilizzare le macchine CMS è stato perché ne abbiamo constatato la cura costruttiva con cui avremmo potuto salvaguardare il nostro prodotto di valore, ottenerne le ristrette toleranze richieste dal cliente con la necessaria ripetibilità ed affidabilità del processo. Anche il centro di servizi ed i tempi di risposta di assistenza online consentono la risoluzione veloce in caso di necessità e di sistemi predittivi esistenti a bordo impianto evitano le situazioni compromettenti di fermo macchina.